Da via Roma, probabilmente in un'area dell'importante santuario le cui decorazioni architettoniche furono ritrovate in San Jacopo, proviene un vaso, forse una brocca, la greca oinocoe, databile alla prima metà del VI secolo a.C. e probabilmente prodotta a Orvieto. Su una fascia a risparmio del vaso è dipinta una sequenza alfabetica, cioè questa è stata realizzata prima della cottura del contenitore e concepita come parte integrante di questo. A conferma della probabile origine orvietana, l'alfabeto presenta elementi distintivi delle norme scrittorie usate in questa città e nella parte meridionale dell'Etruria, in particolare la presenza della lettera Gamma, non usata ad Arezzo fino alla fine del IV secolo a.C. Se effettivamente questo vaso apparteneva al complesso sacro, non dobbiamo sottovalutare il valore magico che aveva la sequenza alfabetica e più in generale la carica sacrale che ebbe la scrittura per gli etruschi nel rapporto con le divinità. Una fra le categorie di testi più antichi è quella degli alfabetari. Si tratta di sequenze alfabetiche redatte su oggetti di prestigio. Non sono da ritenere soltanto strumenti di apprendimento della scrittura, come saremmo indotti a credere, ma hanno invece anche un forte valore simbolico e magico. I più antichi alfabetari del VII secolo a.C. presentavano ancora lettere greche e fenice che corrispondono a suoni assenti nella lingua etrusca. La presenza di lettere non utilizzate è indizio di una fase ancora sperimentale e di elaborazione della scrittura. Solo con la fine del secolo dagli alfabetari furono eliminate le lettere inutili. Il documento di Via Roma presenta una serie alfabetica già riformata, seppure l'omissione di alcune lettere lo renda piuttosto una evocazione dell'alfabeto, cioè uno pseudo-alfabetario.